Lo stato pietoso delle vasche della concattedrale di Taranto, è l'ennesimo schiaffo che l'amministrazione comunale di Taranto, targata Melucci, dà ai cittadini, dà a noi tarantini. È veramente uno spettacolo indecoroso vedere delle vasche di una struttura di pregevole valore artistico. Ricordiamo l'opera di Gioponti, universalmente celebrata, e vedere quelle vasche che sono ridotte a un pantano, a un acquitrino, a una palude. Roba da far rivoltare Gioponti nella tomba. Caro Mattia Giorno, assessore ai lavori pubblici. Caro sindaco Melucci. Caro assessore allo sviluppo economico e quindi al turismo, Fabrizio Manzulli. Voi parlate di turismo. Mattia Giorno che va a gire il mondo e gira l'Italia e gira l'Europa per conto del comune istituzionalmente. Ma cosa parli di turismo? Cosa? Questa è l'immagine di Taranto. Non siete capaci di programmare neanche una pulizia continua delle vasche. E non siete in grado di portare avanti un sistema di funzionamento, di riciclo, di cambio delle acque. Al punto tale che, vedete, si è creata la melma, il fango, dovrei dire la merda. Guardate qui, una palude. E andiamo avanti. Guardate qui le acque, soprattutto l'altra vasca. Qui si è creata la melma sottostante. Fra poco avremo anche le rane, ma stiamo scherzando veramente. E guardate ancora avanti qui, quest'altra melma. Guardate, altra melma. Guardate che schifo. Che schifo. Guardate. Che melma. Guardate il fondale. E qui tutto verde, sporco, perché non c'è il riciclo delle acque. La puzza che c'è da scapparsene. E voi mi parlate di Taranto città turistica. Mi stava scappando industriale. Perché voi la volete, industriale, a tutti i costi. Voi non sapete che cosa sia il rispetto dell'ambiente, il rispetto del valore storico del nostro patrimonio. Perché è un'amministrazione incapace persino di portare avanti un semplicissimo funzionamento di un sistema per la circolazione. Delle acque che scendono e quindi poi c'è questo riciclo, questo giro continuo, perenne delle acque. Guardate, le acque sono stagnanti. Come è stagnante il vostro modo di amministrare. Voi avete il coraggio di parlare di blu economy. Ma quale blu economy? Ma quale ecosistema Taranto? Parlate di transizione ecologica, di transizione culturale. Questa è la transizione culturale? Non siete stati capaci mai, già dalla prima consigliatura a Melucci, a far funzionare queste vasche. E caro Mattiaggiorno tu ti vai sciacquando la bocca di svolta per Taranto. Questa è la vostra capacità. Questa è la vostra immagine. Questo è il biglietto da visita che date ai turisti. Perché non sapete farle funzionare. Ma qual è l'impedimento? È la prima volta, è la seconda, è la terza. Ma vi rendete conto? E allora andiamo a vedere qual è stato questo scienziato che ha progettato questo sistema delle acque. Perché qualcuno che ha realizzato questo sistema, che è stato chiamato per ripararlo, viene pagato. Viene pagato con i soldi nostri, di noi contribuenti. E abbiamo questa schifezza. Ma vi rendete conto? Un'opera che è un biglietto da visita. È un'opera di fama mondiale. Le vasche di Gio Ponti si trovano sui libri di storia dell'arte. E voi avete il coraggio di deturparle in questo modo. Perché significa deturpare il patrimonio storico, oltre che l'immagine turistica di Taranto. Ma per cortesia, state zitti, che fate più bella figura.